Al di là della sconfitta con il Napoli, è una Juve che ha recuperato tanto, perché ricordiamoci che nei primi mesi la Juve era fuori da tutto. È vero, ma sentiamo anche da Ciro Venerato che cosa può fare sul mercato la Juventus in condizioni così complicate e così incerte. Beh, ovviamente alla luce anche di ciò che ascoltavamo prima, è difficile che a gennaio arrivi qualche calciatore. È più semplice invece che la Juve possa magari dismettere qualche elemento per fare cassa tipo McKennie, ma c'è un problema e riguarda Vlaovic. L'agente del calciatore, lo sa anche la Juve, ha avuto colloqui importanti con l'Arsenal, che è disposto a fare un investimento. Bisogna capire se è disposto a farlo già a gennaio o a giugno. C'è una certezza però che il calciatore gradirebbe andare via dalla Juve per una palese incompatibilità tattica con l'allenatore che ritiene troppo difensivista rispetto al suo mentore italiano e andrebbe volentieri invece da Arteta perché gioca un calcio offensivo. La Juve valuta il calciatore 110 milioni, prendere o lasciare? Dall'altra parte prosegue invece in entrata la trattativa con Milinkovic-Savic su due binari paralleli. C'è un accordo, comunque un'ipotesi d'accordo, col suo agente, meno collotito. Però in questi giorni la Juve ha avuto una sgradita notizia perché il Newcastle ha avuto una call conference col suo agente aumentando l'offerta della Juve. La Juve ha offerto a Milinkovic ciò che ha rifiutato Rabiot, cioè 7 milioni a partire da giugno. Il Newcastle è pronto a dargliene 10 subito e 60 all'ottito. E queste sono le situazioni che riguardano la Juventus. Abbiamo detto già la settimana scorsa che Rabiot sarà sicuramente perso perché a fine contratto non rinnoverà con la Juventus. A proposito Max, tra l'altro oggi c'è stato il debutto di Scanavino che è il nuovo appuntamento.